gentili signore e signori buonasera benvenuti al nostro concetto settimanale di approfondimento pianeta oggi reporter dunque come oramai avete capito noi stiamo fotografando dall'alto il nostro pianeta dove sta andando questa umanità dove sta andando il pianeta terra osserviamo che ci sono diverse anomalie parliamo di guerra nel mondo rumori di guerra a livello internazionale ultimamente inquinamento un uomo che distrugge l'ambiente la natura gli animali gli esperimenti mi viene in mente e su questo non approfondisco perché altrimenti interromperai qui la trasmissione perché solo dal pensiero veramente non ti viene più voglia di andare avanti ci sono delle cose veramente abberranti inquinamento nei mari mi viene in mente fukushima eccetera 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 perché poi l'elenco potrebbe andare avanti ancora per parecchio tempo dunque vediamo di fare un po il punto della situazione con il nostro filosofo esperto in spiritualità lui è luciano de bei che innanzitutto ringrazio ancora una volta per aver accettato questa ulteriore più che intervista riflessione al pubblico intanto buonasera a te e a tutti quanti i tuoi amici telespettatori cosa possiamo dire dove sta andando il pianeta terra dove sta andando questa umanità certamente consentimi però una brevissima premessa altrimenti come dico sempre hai carta bianca allora prima di tutto io non ho nulla da insegnare a nessuno ma parlo per mia esperienza per mia crescita evolutiva e quindi qualcuno può prenderla come un fatto personale secondo il tempo è talmente limitato che purtroppo dovrò argomentare dal mio punto di vista dal mio osservatorio per schemi molto approssimativi che potremmo anche approfondire nel tempo ma in questo momento non è possibile perché qui spazieremo appunto dalla filosofia dalla religione alla alle scienze eccetera per cui alla psicologia per cui non è possibile in dieci minuti esternare e dare una risposta alla tua grande domanda perché è la domanda secondo me madre di tutte quanti i problemi allora cominciamo subito nel dire che il problema del mondo non è altro che il problema dell'uomo quindi finché intanto noi non riusciremo a capire cos'è l'uomo non potremo mai dare una risposta al mondo e l'uomo potrà capire semplicemente se stesso se comincerà a entrare in un'indagine introspettiva quindi noi non potremo pensare di trovare le soluzioni all'esterno anzi noi aggraveremo il problema all'esterno cercandolo perché opereremo a livello della razionalità della mente senza il cuore e la natura invece ha bisogno più del cuore che della mente questo è un punto appena sottolineare c'è un punto fondamentale questo allora l'uomo si dibatte in mille problematiche perché intanto prima di tutto non si rende conto che è un essere condizionato se noi intervistiamo cento persone diranno tutte cento persone che sono libere di scegliere e di decidere ma così non è è come se per esempio per portare un esempio concreto una persona un bambino nascesse dentro un carcere vivesse tutta la sua vita dentro un carcere e non si rendesse conto del mondo esterno per lui il carcere è l'ambiente la vita potrà dire che in carcere chi ha sperimentato la vita all'esterno ed è costretto a rimanere in una condizione di segregazione un po il mito della caverna di platone se vogliamo persone che hanno sempre vissuto dentro una caverna non possono sapere concepire cosa c'è fuori e se qualcuno è stato fuori torna dentro di la guardate che il mondo è non ci credono quindi primo appunto è cercare di capire che siamo in una prigione che ci siamo auto generato controllata attraverso i media mi dispiace chiamarti in caso quelli nazionali penso anzi non penso nessuno sicuro ecco avranno fatto hanno fatto il suo ruolo di abbassare un po il grado culturale della gente ma noi che siamo a livello locale al massimo interregionale abbiamo tutto l'interesse per dare una come dire una programmazione culturale una programmazione di approfondimento ai nostri radio ascoltatori radio teleascoltatori perché abbiamo anche poi l'ascolto in fm ecco quindi diciamo che purtroppo sono stati fatti dei caramati di network dove è passata una programmazione abbastanza superficiale mettiamola così ecco e con le conseguenze che poi vediamo allora come è possibile che una persona trovi la strada giusta da percorrere se continua a essere bombardato dalla mattina alla sera da un sistema informativo che lo vuole condizionare e attraverso il condizionamento quindi lo schiavizza quindi finché noi saremo davanti a quella scatola magica chiamata televisione che hanno capito ben benissimo molti poteri occulti come usarlo perché sia chiaro che la tecnologia è neutra e come va usata la scienza che può propendere verso il male il bene e ora per esempio il concetto di male o di bene io lo interpreto così tutto è bene ciò che fa evolvere l'uomo nella sua coscienza e tutto è male ciò che lo oscura quindi condizionamenti dogomi e qui chiamerei in causa una religione che ha come dire fortemente condizionato questa evoluzione della coscienza e se non c'è evoluzione della coscienza non c'è neanche evoluzione dell'anima e liberazione dell'anima quindi la cosa è molto complessa assolutamente sì cioè non solo poi la televisione ma anche tanti altri fattori dovremmo parlarne parecchio per esplicitare il concetto in modo chiaro io ripeto do degli spunti di flash per capire no quindi allora il problema del mondo ripeto è un problema dell'uomo e finché l'uomo singolarmente non si rende conto che è condizionato e schiavo del sistema non potremo uscirne chiunque prospetta delle soluzioni delle panacee miracolose un menzoniero o un ipocrita o un incapace dobbiamo agire sull'uomo e credo che in questo momento in questa epoca storica noi siamo a una svolta decisiva ci sono dei momenti dell'evoluzione dell'uomo dei passaggi epocali credo che questo sia uno di questi perché perché o l'uomo nel terzo millennio riuscirà a evolvere nella sua coscienza e quindi creerà una società molto diversa da questa questa è una società che sta morendo attenzione questa non ha grandi tempi di sopravvivenza abbiamo perso i lavori e abbiamo perso i valori abbiamo perso i valori ma abbiamo perso i contatti con la realtà che ci alimenta e ci crea la vita noi stiamo compromettendo le basi stesse della vita quindi perdendo i valori di conseguenza è tutto un decadimento possiamo metterla così perché noi di riflesso quello che abbiamo dentro lo proiettiamo fuori il nostro agire purtroppo è un riflesso di ciò che sono i nostri pensieri quindi siccome il potere oggi è in mano a pochissime persone che io considero senza anima sono estremamente razionali al punto che loro vedono solo il potere potere temporale potere denaro e potere sulla sul controllo delle menti va bene come unico obiettivo costi quel che costi stanno compromettendo la natura stanno compromettendo la catena alimentare già saltata noi è inutile che cerchiamo di correre i pari non c'è un prodotto che possa essere considerato genuino e sano adesso tra l'altro qui a novembre avremo speriamo che non avvenga ma avremo un'Europa che firmerà un contratto con l'America di libero scambio TTP che pochissime persone ancora affrontano questo tema non riescono a capirne alla portata ma la portata sarà drammatica perché l'America potrà esportare imponendo le sue leggi e i suoi regolamenti prodotti di OGM animali geneticamente modificati quindi una catena alimentare che troveremo nei supermercati che sarebbe tutta da buttare quindi avremo persone fortemente potenzialmente malate che ovviamente vanno a ingrassare le case farmaceutiche le multinazionali farmaceutiche americane diciamo un po' tutte le multinazionali è una cosa un po' in generale poi tutti coloro che hanno questo potere ma questo fa capire che noi non siamo più degli esseri umani considerati esseri umani noi siamo considerati delle cavie e animali da batteria da sfruttare sfruttare sul lavoro vogliono controllare tutti e sottomettere tutti praticamente esattamente ma questo succede solo se l'uomo dimostra che non ha coscienza e qui il punto che noi giriamo attorno ma entriamo sempre nel nucleo centrale se loro non possono condizionare un uomo che è libero nella propria veramente nella propria decisione libertà e di coscienza loro possono controllare persone che riescono in qualche modo a rendere schiavi ci sono purtroppo oggi situazioni che sono in via di evoluzione e da capire ancora meglio per esempio si sta parlando sempre più in modo pressante di queste scie chimiche gli effetti di queste scie chimiche ancora esattamente non sappiamo non sappiamo ancora la portata ma si ipotizza che certamente se lo stanno facendo è a nostro danno stanno inquinando la natura stanno inquinando l'essere umano perché noi siamo il 75% di acqua quindi contaminata l'acqua contaminiamo anche il nostro organismo e poi l'acqua attraverso il sangue e arriva il cervello quindi questi metalli pesanti nel cervello come si comportano? bene interrompiamo qui per il momento la lunga intervista con Luciano Debei che ricordo è un filosofo esperto in spiritualità riprenderemo con una seconda parte sono questi concetti che meritano veramente di essere approfonditi con una frequenza anche maggiore quindi lo ritroveremo anche prossimamente io intanto mi concedo da voi vi do appuntamento alla prossima settimana per la seconda parte di questo nostro speciale dedicato a dove va il pianeta Terra gentili signore e signori buonasera grazie a tutti grazie a tutti